E di due feriti ricoverati nell'ospedale San Francesco di Nuoro, il bilancio di un'esplosione di gas avvenuta ieri sera all'Odea all'interno di un'abitazione a provocare la defragrazione e la fuoriuscita del gas da una bombola di GPL per uso domestico. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno soccorso le persone ferite, marito e moglie, e messe in sicurezza l'area. Secondo quanto raccontato dai testimoni, la stanza in cui è avvenuta l'esplosione era satura di gas. L'esplosione ha anche abbattuto il muro dell'abitazione adiacente. I militari hanno allertato il 118 gas soccorsi feriti e li ha trasportati nel nosocomio onorese dove sono state prestate le cure del caso. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola che unitamente ai carabinieri hanno avviato le indagini tecniche per accertare le esatte cause della defragrazione che solo per un caso fortuito non ha provocato vittime.